Grazie Presidente, ringrazio Enrico Giovannini, vi ha raccontato qualcosa su qual è il mestiere dello statistico, non vorrei che aveste avuto la sensazione che il mestiere dello statistico sia dare i numeri, perché è vero diamo i numeri, però soprattutto abbiamo i numeri giusti per contare qualcosa e per essere protagonista nella società e questo è quello che vorremmo che tutti quanti riuscissero ad apprezzare dopo una giornata come quella di oggi. Visto che abbiamo inaugurato questa giornata parlando ai giovani ed è giusto che sia così e visto che loro sono qui in vacanza e probabilmente dovendo spiegare cos'è la società italiana e statistica, la cosa che mi viene in mente è che la stessa persona sulla quale vi chiederò di fare una ricerca è stata quella che ha fondato la società italiana e statistica e l'Istat, quindi in comune l'Istat e la società italiana e statistica hanno il fatto che c'è stata un'unica persona che è all'origine di queste due grosse iniziative, la società italiana e statistica è una società scientifica, raccoglie tutti coloro che si occupano professionalmente di statistica e l'Istat invece lo sapete, vi ha spiegato cosa fa. Bene, questa persona è un grandissimo statistico italiano che è bene che tutti conosciate ed è bene che cominciate a conoscere fin dalle scuole, è Corrado Gini, quindi inviterei le professoresse a cominciare a interessarsi su chi era questa figura, questa figura a cui dobbiamo appunto l'esistenza dell'Istat e della società italiana e statistica. Come diceva il Presidente, oggi è la seconda giornata nazionale e statistica ma è il terzo incontro di questo tipo e quindi comincia a diventare una piacevole abitudine incontrarsi qua una volta all'anno a questo punto attorno a metà ottobre in questa calda estate o autunno ancora estivo di Roma ed è un'occasione importante, è un'occasione importante perché avete visto, è cresciuta in questi anni. Come diceva il Presidente, non siamo qui da soli, ci sono riuniti in altri posti d'Italia dappertutto, da Trieste alla Sicilia, dalla Calabria alla Liguria, persone che si occupano di statistica sotto varie, con diversi compiti.